Grazie a tutti per presentare il Sindaco, il Caponci e grazie al Presidente Gergo Moremeri per averci un racco quest'anno in un anno particolarmente significativo per tutta la nostra ben amata, ben emerita Armando Icarapicchi. Certo non è questo il luogo d'atto per riepilogare 200 anni di storia, però ritengo che il nostro percorso si intersechi in una maniera molto significativa in questi 200 anni con la storia di tutta la nazione, è passata dalle guerre di dipendenza, è passata da cambiamenti di forme di Stato, di governo, purtuttavia senza in qualche maniera rimanere vittime di sbagliamenti che la distraessero dai conti di per cui era stata in qualche maniera restituita.